we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente ieri è arrivata la patch 12.10 tantissime novità ne abbiamo viste di tutti i colori live vi ho pubblicato nel video di ieri di youtube tutte le skin tutti i backpack tutti i deltaplani ma oggi vi farò vedere molto molto di più volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di inserirlo nello shop e di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video ma nel video di oggi appunto parleremo ragazzi delle nuove sfide di la terza e la quarta settimana appena liccate ma anche del grande arrivo degli elicotteri finalmente il primo veicolo su questa su questa season 2 primo veicolo nuovo ovviamente dall'inizio del capitolo 2 e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite ma prima la domandina molto veloce lo sapete che ci tengo tantissimo alle vostre risposte proprio qua sotto domandina che non poteva che essere questa ma te sei contento che siano tornati lama oppure no e dai raga ero rimasto io personalmente malissimo quando li avevano tirati via da ieri sono di nuovo disponibili in game non vedo l'ora ragazzi di vederne un sacco un paio li ho già trovati ma io sono molto molto contento dimmi la tua qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a leggere il primo argomento un argomento molto interessante ma anche molto controverso che dice mi traduco in italiano se tu stai giocando a fortnite da tre ore oppure di più avrai una notifica a schermo di un messaggio di avviso che ti dirà che tutti i tuoi punti esperienza saranno dimezzati del 50% e non solo ragazzi verranno disabilitate anche le challenge era una cosa che succedeva già in giappone nella precedente nel precedente capitolo di fortnite avevamo già visto che dopo quattro ore sul gioco continuativo in giappone veniva praticamente dimezzato di brutto il totale di punti esperienza e anche lì gravi problemi sembra che sia arrivata anche in europa questa cosa e loro lo fanno per appunto non obbligare la gente a stare troppo davanti allo schermo reputo che sia una cosa giusta io sono assolutamente a favore è un peccato perché sarà ancora più difficile livellare ma andando avanti ragazzi abbiamo direttamente da fortnite progress bar il 17 per cento di season è già stato completato ed è una cosa incredibile ragazzi perché questa season sta letteralmente volando fra una manciata di giorni saremo già ad un quarto di questo capitolo e non vedo l'ora di vedere tutto quello che ci dovrà aspettare tutti i nuovi eventi anche perché ce ne sono di alcuni e forse non solo uno ma andando avanti ragazzi un'altra notizia che un pochettino ci ha lasciato invece sconcertato lo vedete alla mia destra scott trevis ne abbiamo parlato doveva esserci una collaborazione visto che nei file di gioco era stata trovata era stato trovato un set completo quindi un outfit completo della sua skin ma da questa patch della 12.10 leggiamo che il set cosmetic set di trevis scott è stato rimosso non si sa sinceramente perché sia successa questa cosa in realtà epic games non aveva mai ufficialmente detto di questa collaborazione era solamente stato trovato dai leakers forse non hanno raggiunto un accordo forse c'è stato qualche problema ma per adesso rimosso il set non c'è nessuna collaborazione ma andando avanti ragazzi ecco qua in queste tre righe si racchiude la grande la più grande novità di questa patch 12.10 ovvero sia l'arrivo degli elicotteri il nuovo mezzo di trasporto dove ancora però non ci sono immagini quindi nessuno sa come sarà fatto vi ricordo che nel trailer di questa season si vede un elicottero d'oro proprio sorvolare l'agenzia e vediamo subito che sappiamo dei dati ne conosco anche altre memoria che vi ho pubblicato sulla mia pagina instagram la trovate scrivendo xyuder l'elicottero avrà 1500 punti vita potrà utilizzare il boost quindi l'accelerazione un po' come succede per tutti i veicoli e farà dei danni ai giocatori se li dovesse colpire allora innanzitutto l'elicottero non spara quindi bene dovrebbe essere solo ed esclusivamente un mezzo di trasporto io immagino che sia per tutto una squadra quindi penso abbia 4 posti a sedere so però che se l'elicottero a velocità non boostata va contro un giocatore causa 100 di danno se va contro una struttura ne causa 450 e mi ricordo anche ragazzi che porca miseria ce l'ho scritto su instagram c'era un'altra curiosità dell'elicottero ah sì che sponerà probabilmente solo nelle location dove c'è il simbolo dell'acca che è proprio il parcheggio dell'elicottero quindi dovrebbero sponarne secondo me non più di 3 a partita anche perché per adesso lo spawn rate è allo 0% quindi non si sa ancora dove verranno posizionati gli elicotteri con che frequenza sponeranno però la notizia è veramente eccezionale credo che dovremmo aspettare ancora un pochettino ma arrivare a senz'altro in questa season e andando avanti ragazzi un'altra novità davvero super interessante lasciate totalmente perdere questa immagine che state vedendo dell'evento di star wars del precedente e della precedente stagione ma in realtà è stata aggiornata tutta la sezione dedicata all'evento il che vuol dire che è confermato al 100% che in questa season c'è sarà un evento abbiamo già visto alcune immagini nei miei video precedenti dove l'agenzia lentamente si trasformerà in oro sappiamo ancora che c'è la skin oro pubblicata nella patch 11.40 mai rilasciata pubblicamente e insomma ragazzi questa nuova modifica questo nuovo aggiornamento che state vedendo è davvero un chiaro segnale che epic games si sta preparando a quello che dovrebbe essere finalmente dopo più di 150 giorni un nuovo evento che speriamo ci lasci a bocca aperta e andando avanti ragazzi con il prossimo argomento un'altra novità trovata nei file di gioco si parla di nuovi oggetti consumabili phrased item vuol dire appunto oggetti consumabili si chiamano honey comb ora io non ho idea di cosa voglia dire questa parola perché honey è miele comb sinceramente non mi dice assolutamente nulla però potrebbe essere potrebbero avere la stessa funzione delle noci di cocco come leggiamo nella seconda riga probabilmente li troveremo in qualche parte specifica della mappa e insomma per chi non se lo ricordasse dovrebbero dare 5 punti salute se vi manca della salute oppure 5 punti scudo invece se siete full di salute e dovete appunto maxare lo shield insomma ragazzi staremo a vedere anche qua non abbiamo purtroppo delle immagini e andando avanti ragazzi si parla anche invece della nuova modalità a tempo limitato la nuova ltm quella che è presente nella parte nella lobby dove c'è il tavolo con tutti gli agenti nel computer di destra vi ricordo non si può ancora vedere quale sia la ltm in corso ma qui abbiamo delle informazioni invece che ci lasciano pensare che appunto questa ltm arriverà molto molto presto e ci dice entra per sbloccare dei nuovi livelli di tecnologia delle spie da utilizzare durante i match in questione quindi sono ovviamente delle partite dedicate scegli i fantasmi o gli spettri o le ombre per dare supporto durante le partite di questo match e poi gioca gli operation match per ottenere intel ora io non so intel che cosa siano punti probabilmente per la tua fazione per la tua alleanza quindi queste tre informazioni ci lasciano capire insomma che saranno divisi ovviamente a squadroni penso che sia una roba globale quindi tutti quelli che hanno scelto gli spettri tutti quelli che hanno scelto le ombre giocheranno sbloccheremo delle cose non si sa ancora che cosa ma prestissimo io credo dalla prossima patch ne vedremo delle belle insomma ragazzi anche per oggi le news sono terminate vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao ciao